Le metamorfosi, un viaggio tra i miti, edizioni giunti, siamo con l'autore Idalberto Fei. La mitologia greco-romana è ricca, d'altronde lo sappiamo, di personaggi che si trasformano, affrontano grandi pericoli, compiono imprese grandiose, ispirandosi alla opera delle metamorfosi del poeta latino Viglio. Queste pagine raccolgono e raccontano miti indimenticabili che per secoli hanno affascinato tanti lettori. Le chiedo come nasce l'idea di questo libro? L'idea di questo libro nasce dal fatto che già negli anni passati ho pubblicato alcuni classici per ragazzi, Orlando Furioso, i racconti d'inverno di Shakespeare, le favole della montagna, Gilgamesh. Quando l'editore Giunti mi ha proposto di occuparmi delle metamorfosi ho accettato molto volentieri. Non volevo però limitarmi a raccontare, a riassumere questi miti per quanto bellissimi. Mi sembrava che fosse un modo anche per ridurli quasi a delle storielle e poi che fosse più difficile per i ragazzi immedesimarsi. E allora ho voluto scegliere un filo conduttore, come il filo di Arianna che compare nella copertina. E questo filo conduttore l'ho trovato in uno video giovane che lascia la Natia Sulmona, giovanissimo, a nove anni, sappiamo che è un video nelle glorie dell'Abruzzo, lascia la Natia Sulmona insieme al fratello Maggiore, è un precettore, e viaggia il Mediterraneo, Atene, la Troade, l'isola di Creta, l'Egitto, la Sicilia. In questi paesi lui conosce i miti, se ne innamora, se ne incanta e finirà poi da adulto per raccontarli in questo poema meraviglioso che ha attraversato duemila anni. E alla fine, quello che è più importante, questo si rivela un viaggio iniziatico, perché da bambino diventerà adolescente e vincerà quella paura della vita che si lamenta tanto nei ragazzi di oggi, è difficile dal loro torto, perché la realtà che ci circonda è effettivamente spaventevole. Però è molto importante guardare al futuro, non soltanto con paura, ma soprattutto con curiosità e con il senso della meraviglia che questo libro conserva e trasmette in maniera eccezionale. E ho voluto scegliere l'Abruzzo per presentarlo come prima presentazione perché mi sembrava veramente doveroso, visto che un video, come ripeto, era di Sulmona, come tutti sappiamo.